Sai cosa ho scoperto? Ah, cosa hai scoperto? Dai che potresti anche essere mio nipotino. Ah, non figlio? È pur bello parlare con altre generazioni. Ma hai ragione, anche a me piace soprattutto dialogare con te ma anche con tanti altri. Ecco, quindi? Io non ho mai capito fino a qualche mese fa a che cosa serviva la vecchiaia. Ma serve a raccontare la storia dell'antichità che è dell'infanzia mia che la vita di oggi non è altro che un germoglio ulteriore della mia giovinezza. E quello è il bello. Dissimo, ma vorrei saperne di più di questo tuo pensiero così ti dico anche il mio, così anche mi ascolti perché il dialogo è sempre un ascolto reciclo. Quindi cosa facciamo? Invitiamo tutti i parrocchiani che vogliono, domenica 16 ottobre alle ore 16. Sì, è un'ora possibile per noi vecchi. Dalle 16 alle 17 è un'ora affinché abbiamo un'occasione di incontro e di dialogo tra generazioni. Ah beh, basta che ci siano delle altre generazioni. Esatto, quindi dovete venire con qualcuno di un'altra generazione. Eh, io sguasso fra i primi scolari che ho avuto che sono già nonni, poi vengono i figli che sono già genitori. Quindi tu hai già tanti da invitare, ma anch'io ho una bella lista. Quindi ci vediamo domenica 16 ottobre per un dialogo tra generazioni. Vabbè, non conoscerò, perché poi siamo tutti corretani. No, ma di altre generazioni, vabbè. Sì, ma cosa c'è qua? Va bene, a presto. Ciao.